Tac! Diamanti naturali! Ciao a tutti ragazzi! Sono il vostro gioielliere di fiducia, già lo sapete. Oggi sono qui perché dopo tantissime richieste mi avete assillato chiedendomi dei bracciali tennis in ore diamanti da stare sotto i 5000 euro. E quindi oggi sono qui a mostrarvi appunto diamanti e ore 18 calati. Tutti sotto i 5000. Ovviamente quello più costoso sarà quello più grande che è questo da 2 calati e 28 e ovviamente costa di più. Ma possiamo arrivare fino al più piccolo da un calato che stiamo intorno ai 3000 euro. Quando vi dico ore e diamanti naturali è perché sono effettivamente diamanti naturali e quindi oggi farò vedere anche col diamantester che ciò che vi dico è sempre realtà. Partiamo col primo. Tac! Diamanti naturali Cambiamo tennis Diamanti naturali Quindi come potete vedere tutti i diamanti certificati e vi dirò di più i tennis che io realizzo per scelta non li faccio più leggeri di 8-9 grammi di montatura Perché? Perché la montatura è fondamentale per rendere il tennis rigido e perfettamente adattabile appunto al polso. Se noi andiamo a creare una montatura da 5 grammi come possiamo provare in tantissime gioiellerie è una montatura povera e cosa vuol dire che dopo un po' di mesi di utilizzo inizia a smollarsi inizia a piegarsi troppo si cappottano le pietre quindi io per scelta faccio montature di almeno 8-9 grammi fino ad arrivare anche a 20 ovviamente quelle da 20 sono da 20 grammi perché? Perché ci sono pietre molto più grandi molto più importanti ma il minimo indispensabile nei miei tennis è 8 grammi di oro e come potete vedere guardate che curvatura che ha la montatura perfetta e quindi quando la si va ad applicare sul polso è un capolavoro e questa non si cappotta ovviamente se voi siete interessati ai miei tennis in oro e diamanti ovviamente diamanti VS Color E quindi buonissima qualità e buonissima colorazione contattatemi in privato che lo realizziamo nella vostra misura nel vostro budget con il vostro colore qualsiasi cosa voi la pensate io ve la realizzo